Innaffiavo le piante per un amico malato, usa la marijuana come terapia. Questo, quanto raccontato di fronte al giudice dal 42enne, finito in manette dopo il blitz dei carabinieri nella serra di Ripa dell'Olmo, all'interno della quale i militari avevano trovato 20 chili di sostanza tra piante e inflorescenze. L'uomo, un operaio incensurato, sorpresa da annaffiare le piante di marijuana durante la convalida dell'arresto, ha infatti raccontato che faceva spola tra la città dove abita e la serra per aiutare l'amico, un 48enne paraplegico che ai carabinieri avrebbe raccontato di utilizzare appunto la marijuana come terapia. Il 48enne, gravemente malato, avrebbe anche spiegato agli inquirenti di essere lui il proprietario della serra e di aver chiesto aiuto all'amico. Dopo la convalida, il giudice ha rimesso l'uomo in libertà in attesa del processo fissato a novembre. Il 42enne, difeso dagli avvocati, Cristiano Cazzavacche e Osvaldo Fratini, è accusato di coltivazione di droga. Al 48enne, invece, al momento non è contestato nulla. I carabinieri nella serra avevano trovato almeno 15 piante di marijuana, alcune alte più di due metri e mezzo, oltre 160 inflorescenze, appesa ad essiccare ad un costoso trimmer a disposizione dell'uomo, oltre 20 in tutti i chili di stupefacente sequestrati dai carabinieri.